Siamo qui con il mister De Giardinetti, una vittoria importante, come giudica la prova dei suoi ragazzi? Una prova fatta di carattere, i giocatori in questa settimana erano molto concentrati su questa partita e l'hanno sviluppata bene in campo. Ecco mister, con questa vittoria adesso il distacco che vi porta alla Roma Ottavo, quindi dal primo posto, è di 4 punti, si riapre un campionato? Si riapre un campionato, ora vince chi non sbaglia, ogni partita per noi sarà una finale, loro ottima squadra, lo dice anche la classifica, però si può vincere il campionato su errori degli avversari. Abbiamo detto della classifica, adesso 4 punti dal primo posto, si aspettava inizio anno che questa squadra potesse stare lì in questo momento della stagione? Onestamente? Mi aspettavo che io stavo avanti e loro stavano a 4 punti in me.